Abbiamo evacuato i nostri connazionali dal Paese, tutti gli italiani che volevano rientrare dall'Afghanistan sono rientrati e circa 4.900 cittadini afghani sono stati evacuati grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa. Come sapete l'ambasciata d'Italia a Kabul è stata immediatamente ricostituita, nelle prossime ore ripartirà l'ultimo C-130 dall'aeroporto di Kabul, l'ultimo C-130 italiano dove ci saranno a bordo sia il console Tommaso Claudi, sia l'ambasciatore Ponte Corvo, sia tutti i militari carabinieri che hanno contribuito alla sicurezza delle operazioni di evacuazione in questi giorni e che voglio ringraziare tutti. Quindi sono queste le ultime ore delle operazioni di evacuazione, sull'ultimo aereo ci saranno coloro che hanno permesso in così pochi giorni di evacuare circa 5.000 cittadini afghani più tutti gli italiani che lo hanno richiesto.